scrittore di giorno e barman di notte la storia di daniele poletti la spiaggia di viareggio luogo da cui tra ispirazione per la sua scrittura sperimentale ora vi raccontiamo la storia di daniele poletti la sua doppia vita barman scrittore ed editore dalla spiaggia di viareggio alla biblioteca con 10.000 libri della sua casa editrice che pubblica i grandi autori della scrittura sperimentale lo ha incontrato federico monechi daniele poletti è una persona che si divide su due mondi completamente diversi sono un barman e in italia so che ci sono altri poeti barman penso di potermi considerare uno scrittore sperimentale complessità e la password per entrare nel mondo di daniele poletti scrittore ed editore sulla spiaggia di viareggio cerca intuizioni per visioni poetiche che riflettono la sua critica alla società un pensiero del suo prossimo libro italienti che uscirà per anterem è dedicato alla tecnica per stendere il bucato il metodo migliore per evitare le pieghe mute equidistanza dei pezzi per genere colore esposizione al sole o al vento l'osservazione di come si devono stendere i panni diventa un po' quella che per montale era la foglia incartocciata che esprimeva un dolore esistenziale nel suo mondo c'è l'iliade di omero e l'opera aperta di umberto eco la poesia visiva e totale degli anni 60 70 all'arte del corpo cita edoardo cacciatori la poesia è una intensificazione della realtà per italo calvino invece era l'arte di mettere il mare in un bicchiere esistono scrittori in italia che cercano di mettere il mare in un bicchiere esiste una stragrande maggioranza di poeti o scriventi definirei che invece hanno solo l'ambizione di essere presenti in una certa situazione non di portare avanti un progetto serio di scrittura o culturale mi perdoneranno uno scrittoio e 10.000 libri l'altro mondo di daniele poletti è diaforia la casa editrice che in tandem con la dream book di pisa pubblica giovani scrittori sperimentali e tiene in vita l'opera di autori come adriano spatola emilio villa eduardo sanguinetti e nanni balestrini il primo obiettivo che mi sono posto quando è nata la diaforia era quello di creare una rete che potesse produrre cultura dal basso e dal basso intendo anche dalla provincia una forma di opposizione a quello che mi circonda dal punto di vista sociale e lo faccio attraverso la scrittura attraverso l'arte in qualche modo è tutto per questa edizione torniamo alle 19 e 35 continuate intanto a seguirci a seguirci sui nostri social su facebook su twitter e sul nostro sito web tgr rai toscana grazie per averci seguito una buona giornata